Ciao, io sono Mike e questo è Mike's Tech. Questo è il mio canale YouTube dove pubblico settimanalmente videotech e travel vlog. Parlo di iPhone e del mondo Apple e soprattutto anche di videomaking e ti darò consigli su come poter utilizzare il tuo iPhone al meglio. Nei video di viaggio invece parlerò di quelli che sono i luoghi più interessanti e le farò anche vedere delle città che ho visitato oppure di luoghi paesaggistici. Se pensi che questi argomenti ti possono interessare iscriviti al canale e attiva la campanellina per le notifiche. Inoltre ti consiglio di seguirmi anche su Instagram che è l'unico social che ho, nonché anche quello che utilizzo maggiormente, sui miei due profili. Si chiamano Mike's Tech YT e Michele Rossini-PH. Da Mike è tutto e ci vediamo in un prossimo video. Bye!